Ultima giornata della Girone F di Serie D con Verdetti ancora da scrivere e una griglia playoff ancora da disegnare. Trastevere e Tolentino sono matematicamente dentro e poi cinque squadre che possono ancora aspirare all'appendice finale del torneo. Due sono Abruzzesi, Pineto e Vastese. I biancazzurri di Daniele Amaolo giocano un vero e proprio scontro diretto al Mariani Pavone contro la San Benedettesi a pari punti a quota 52. Chi vince è certo di partecipare alla postseason. Sarà un incrocio determinante per le due formazioni che in 90 minuti, non che si giochi in una stagione, ma comunque possano regalarsi un piccolo sorriso. Marchigiani senza Alboni in difesa e Angiulli appiedato dal giudice sportivo e con ogni probabilità anche senza Lulli in mezzo al campo, visto che il centrocampista soffre ancora per un problema al polpaccio. Decisione finale che sarà presa soltanto a poche ore dal match, che il Pineto affronterà invece senza gli squalificati Mesisca e Del Mastro. Ma gara da vincere ad ogni costo perché solo così avrebbe la certezza di un playoff che l'anno scorso vinse in finale a scapito del notaresco. A Nereto la Vastese sarà spettatrice più che interessata perché vincendo con i vibratiani anche essa sarebbe sicura di un piazzamento postseason. Bisognerebbe vedere poi con quale posizionamento per individuare anche l'eventuale avversaria in semifinale. Se Pineto e San Benedettese pareggiano e la Vastese, che ha 50 punti, facesse il blitz a Nereto con un arrivo a tre a quota 53, la Vastese beneficerebbe della classifica avulsa favorevole e si piazzerebbe al quarto posto. Se invece una tra Pineto e San Benedettese dovesse portarsi a casa l'intera posta in paglio, con una vittoria la Vastese arriverebbe quinta e avrebbe la semifinale contro la seconda. Ma l'obbligo dei tre punti rimane anche perché gli aragonesi hanno gli scontri diretti a favore anche con il Fiuggi. Vittoria 4-1 e sconfitta 2-1. I laziali, di conseguenza, devono regolare il Castelfidardo e sperare che la Vastese non ottenga identico risultato contro la penultima della classe. Piccolissima speranza anche per il Porto d'Ascoli a quota 49. Ci vorrebbero mancati successi di Vastese e Fiuggi e Pineto-Samba non deve finire con il segno X. Insomma, davvero complicato soprattutto perché l'avversario che arriva, il Fano, non potrà permettersi di regalare punti. Anche perché la zona bassa vedrà il notaresco far visita all'Aurora Alto Casertano, già retrocessa con l'opportunità di mettere in ghiaccio una salvezza sofferta, ma facilitata dal successo contro la Re Canatese di settimana scorsa. A proposito di Re Canatese, il Chieti farà visita alla capolista, promossa in Lega Pro, e Nero Verdi manca un punto per festeggiare la matematica permanenza in Serie D. Impresa non impossibile, visto che la formazione di Pagliari ha poco altro da chiedere al campionato. La situazione più difficile c'era il Castelnuovo, che è quasi certo di dover passare attraverso le forche caudine del play-out. In più domani scontro diretto, che più diretto non si può a Vasto Girardi, che chiude col Fano il lotto spareggi permanenza a quota 45. La squadra di Guido Di Fabio ha poche possibilità di evitare l'appendice finale per rimanere in Serie D, e ai suoi destini guarderanno anche nel campionato di eccellenza abruzzese, difando che i Nero Verdi salvino la categoria per non procedere a dover decretare una retrocessione in più in promozione. Un orecchio sarà anche alla gara di Montegiorgio, dove i padroni di casa, a quota 46 come il notaresco, ospitano il Tolentino per un impegno più complicato di quello che avranno i Rosso-Blu di Epifani. 90 minuti dunque da vivere tutti di un fiato, aspettando i verdetti per play-off e play-out. Stesso regolamento per primi e secondi, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, tempi supplementari, persistendo la parità, accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato. Stesso discorso anche per i play-out, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, due supplementari e persistendo parità, procederanno al campionato d'eccellenza regionale le squadre peggiori classificate al termine del campionato.